Ciao a tutti, bentornati sul canale Giornalismo del Cuore Italiano Giucas Casella, momenti di terrore al grande fratello Vip, si infiltra uno spillone in gola e un'altra concorrente interviene a toglierglielo Scene da brividi e coinquilini spaventati. Ecco che cosa è successo Giucas Casella spillone.Non smette di sorprendere il famoso illusionista che si è ritrovato con uno spillone infilzato in gola Scene da brividi al GF Vip 6.Panico al GF Vip, Giucas Casella si infilza uno spillone in gola La scorsa settimana Alfonso Signorini ha annunciato ai concorrenti, in diretta, la data della finale che è fissata il 14 marzo 2022 I concorrenti sono stati chiamati a scegliere liberamente se abbandonare il reality senza pagare alcuna penalità oppure proseguire la loro esperienza nel bunker di Cinecittà Tra i concorrenti più amati di quest'edizione vi è sicuramente Giucas Casella il quale più volte ha manifestato le sue intenzioni di voler continuare a rimanere nella casa più spiata d'Italia Ironico, solare e divertente, è la mascotte della casa e far allegrare davvero tutti Nelle scorse ore però il famoso illusionista ha terrorizzato i suoi coinquilini, si è infilzato uno spillone in gola Cala il gelo nella casa, momenti di panico nel bunker di Cinecittà Scene da brividi al GF VIP, Jeffini sotto shock.Giucas Casella è tra i concorrenti più apprezzati di questa edizione del Grande Fratello VIP Insieme a Francesca Cipriani, i due hanno rallegrato per settimane gli animi dei telespettatori Nell'ultima puntata, la Cipriani ha annunciato di voler abbandonare il gioco per via di alcuni problemi di salute Giucas Casella e Francesca Cipriani.La stramba coppia, così come è stata soprannominata dai coinquilini, è costretta dunque a separarsi Giucas continua però a mantenere alto l'umore della casa con la sua ironia e con i suoi esperimenti di illusionismo Nelle scorse ore è accaduto qualcosa che ha lasciato i coinquilini senza parole In un video che poi è diventato virale, si vede Casella con uno spillone infilzato in gola Carmen ha il compito di estrarglielo.La showgirl, seguendo le indicazioni dell'illusionista, riesce tranquillamente a togliergli lo spillo dalla gola senza che esca nemmeno una goccia di sangue GF VIP 6, Giucas Casella scopre i sotterranei della casa, non creda ai suoi occhi Nella casa cala il gelo.I vippomi sono rimasti a bocca aperta, un po' per lo spavento di vedere il loro amico con uno spillo alla gola, un po' perché grazie ai suoi poteri mentali, Giucas ha mantenuto la calma ed è riuscito a farsi sfilare lo spillone senza alcun danno Grazie per aver guardato l'intero video.Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità Ci vediamo nei prossimi video